Qual è la situazione Covid tutt'oggi in Abruzzo? Ma è una situazione che dal punto di vista della prevalenza dell'infezione abbiamo dei numeri che sono sicuramente molto più alti di quelli dell'anno scorso dal punto di vista sanitario è ancora una situazione abbastanza tranquilla rispetto ad altre regioni quello che un pochettino ci preoccupa è che bisognerà valutare la necessità della terza dose soprattutto per gli anziani che avendo un sistema immunitario più basso potrebbero non essere più coperti dalle prime due vaccinazioni quindi quella è una cosa che non solo in Abruzzo bisognerà incominciare a valutare del resto anche il Premier lo ha detto iniziamo a pensare alla terza dose A proposito di vaccinazioni in Abruzzo come siamo messi e quando si poterà raggiungere l'immunità di Greggio? In Abruzzo le vaccinazioni sono andate bene rispetto ad altre regioni e devo dire che sono lo specchio puntuale di quello che poi è successo come ricaduta sulle strutture sanitarie per esempio la Sicilia che ha fatto pochissime vaccinazioni ha avuto i problemi che ha avuto da quel punto di vista l'Abruzzo sta procedendo in maniera devo dire piuttosto spedita certo l'idea che dovremmo arrivare a fine settembre a coprire un numero tale a livello nazionale almeno l'80% per incominciare a dire che nel momento in cui arriverà l'inverno che è quello che ci fa più paura avremo una buona copertura del territorio bisognerà lavorare molto con opere di convinzione verso i Novax per farli ragionare perché le loro posizioni sono pericolose per tutti Per concludere l'efficacia dei vaccini si testerà soprattutto nei mesi più freddi? Assolutamente sì A noi del vaccino quello che interessa non è tanto che non faccia infettare ma che non faccia ammalare Allora ci sono diversi casi di persone anche vaccinate che prendono il virus però lo prendono in maniera paucisintomatico o asintomatica e il problema è quello che dicevo prima verificare quanto la copertura delle prime due dosi di vaccino sia efficace e quanto invece dobbiamo incominciare a pensare a ripartire per esempio dagli anziani considerando che si riaprono le scuole quindi che i ragazzi andranno in giro quindi che potrebbero riportare qualcuno di loro non vaccinato il virus a casa dobbiamo preoccuparci presto della terza dose Per concludere non ha la sfera di cristallo ma quando usciremo da tutto questo? No, la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno diciamo che secondo me dovremmo vedere come va l'inverno se in qualche modo soprattutto dal punto di vista clinico, sanitario riusciamo a tenere poi dalla primavera in poi dovremmo andare in discesa però non dimentichiamo che questo virus muta 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 dovremmo essere pronti a vedere in che modo può cambiare che altre varianti ci propone